we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci chiuderone da bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono chiuder e sono con il mio amico edo spam ciao edo ciao ciao ragazzi siamo qua perché volevo provare volevo provare insieme a voi la nuova mitraglietta ragazzi guardatela qua guardatela qua come ti sembra edo questa mitraglia fantastico andiamo a vedere ragazzi buona andiamo a provare cosa danni quanti ne fa adesso li proviamo proviamola 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 in game però innanzitutto proviamo a sparare è un vampa è un vampa velocissimo colpi piccoli edo si ok ragazzi è tanta tanta roba 23 di danno con un caricatore da 24 sembrerebbe infatti e se tenete premuto spara raffiche di vediamo subito 4 colpi alla volta ragazzi la safe 4 colpi alla volta voglio non c'è da ridere c'è da dare in safe venga io ci sto andando molto bene ragazzi la proviamo per la prima volta insieme a voi non appena troviamo qualcuno a cui utilizzarla contro non fate caso al mio italiano sono entro in 18 in questa duo ragazzi attenzione che andiamo attenzione che c'è tanta gente squagliato con un uomitraglietta ragazzi attenzione è andato giù così è andato giù così raga e non lo sono squagliato malissimo il tipo vengo vengo dov'è che vai dove vai vai in safe vada in safe attenzione due raffiche da qua c'è un altro aspetta che vado sotto 75 in testa mi ho fatto malissimo vengo stia la stia la stia la un momento raga fa malissimo raga fa malissimo questa mitraglietta la stiamo provando in anteprima per voi hai delle cure caro sì sì bene bene mi stanno sparando malissimo adesso dovresti venire però sì sì adesso vengo benissimo benissimo in tanti fa fatti un box mi faccio un box e mi stanno sparando nel box anche sopra anche sopra le sparano un problema tecnico sono a terra ma l'importante era provare la nuova mitraglietta vengo io venga lei venga lei così ma cavolo la vedo molto tranquillo lei riesce a ressarmi ma lei non grande attenzione ragazzi attenzione siamo stiamo stiamo registrando con edo minchia redomi ha ressato grande edo e moriamo così va bene guardate guarda c'è la mano a mitraglietta al tipo va beh l'importante ragazzi era provarla e vederla tanta roba vi ringrazio per aver guardato questo video salutali tutti edo ciao noi ci vediamo in live alle 17 ciao 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 ciao